Ebbene, la Reggiana prende un giocatore nuovo, a tempo, determinato mai a titolo temporaneo. Costui si chiama Manolo Portanova per la stagione calcistica 2023-2024. Proviene costuita dal Genova FC, Federazione Calcio, avrebbe già raggiunto i nuovi compagni di scuola, però diciamo che non sarebbe ben visto, infatti molti tifosi non lo vedrebbero di buon occhio, insomma non piacerebbe a diversi tifosi della Reggiana. La Reggiana vi ricordo che di recente è passata in B, è stata una promozione straordinaria, è stata in C, promossa in B, i risultati sono stati abbastanza buoni, tanto che proprio la Reggiana, andando in B, dimostra di aver fatto le cose fatte bene e li dimostra sul campo in concreto e non in astratto. Bene, complimenti comunque alla Reggiana che prende Portanova, o a me che mi piace, non è una persona che a me non disturba chiaramente, però ripeto che molti hanno criticato la scelta di prendere Portanova, metterlo alla Reggiana a titolo temporaneo. Iscrivetevi se io la commentate e tanti auguri di buon lavoro a Lewi, a grande Manolo Portanova.